sono tutti bros oggi siamo su fortnite in creativa con un nuovo amico però parla comunque oggi siamo qui su fortnite perché gli avevo promesso che se lui mi batteva in creativa con ben 11 kill ma io regalavo una skin da 1200 da 1200 ecco bro allora io c'ho cinque kill io ho quattro l'ho fatto cadere no mio due izzi è già in alto bronzer vera 6 va bene va bene viaggiare va bene va bene un attimo che sto arrivando volevi io il mio polipazzo non abbiamo pietà pietà ai aia aia ai aia aia i morto fonte di una foto qużenie dice lo sai ma sono cinque kill ma vieni dai un attimo io mi prendo le doppiette le pistole di apple che sono un valgono e compro non attirare con le pistolette c'è le armi più scarse del gioco quindi ma devi regolare broma abbiamo detto che si arrivano 11 ok ragazzi avevo fatto un piccolo taglio gg quanti che il stai sotto ah quindi non dovrei andare a mangiare è il sì mio amore detto vieni però io voglio fare la voglia d'acqua è bravo è bravo è bravo un attimo ma è proprio morto su quando è che lei e sei sì però ancora devi spaccare ma non si può tocca tutto c'è io perché l'ho preso del tavolo noi siamo parità siamo parità aia gg 8 kg per te 8 chi sì ma arrivo poi devo mangiare cosa almeno arriveranno che chi mi ha vinto no è proprio abbiamo detto 11 non 9 e lo so prometti quando ero mangiare almeno molti di incontro vini sono ecco ecco oplà oplà come fa io le mando mangiare bruno ok dai ti aspetto raga lui è andato a mangiare a te mi devo avvicinare di un piatto non dite nulla ma lui ha coittato ha coittato mi sa che ha coittato ha coittato ha coittato ha coittato raga ha coittato ha coittato non ci credo ha coittato ma lo vado a spammare l'ho fatto in tempo mamma mia raga mamma mia ha coittato non se l'ha coittato ma io faccio una cosa gli avevo detto che avevo tipo delle skin prossime ma invece no mamma mia un attimo dove sta sono in interment vediamo non lo trovo non lo trovo non lo trovo non lo trovo non mai 24 amici di evi tipo un ninja di bar ma boh raga io gli avevo detto che tipo gli regalavo una skin ma raga tutta una truffa era tutta una truffa mamma mia aspetta ma c'ho ancora l'isola ma quittato però c'ho ancora l'isola e però non ci appassenterà giustamente mamma mia che video incredibile io vedo qua se c'è una dead run un attimo andiamo a fare questa dead run mattis dead run perfetto io ho già il codice andiamo a provarla intanto andiamo a farci un bagnetto sul deflopper eeeeh evviva vediamo launch vediamo aia qua qua ok si è caricata ti trovi nella cameretta mattis esci prima che se ne accorga soltanto i veri fan di matti se riusciranno a concludere questa dead run va bene va bene ok va bene perfetto nooo secondo livello non ah 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 Panna No Dannazione Difficile Non c'è difficile Oh no Oh no Ce l'ho fatta e non ditemi come Questo cos'è? Oh Un dropper Wuhuu Ah buona non c'era bisogno che faceva il launcher Oh ma mi sto laggando Sono morto Come mai? Ah in vero i colori Così 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 Perfetto No No My last name Natural Wilder I'm never trying To have my life I'm still in the mouth Mamma mia Che difficile Ora qua Ci spenderò Delle ore Sicuramente Sì Questo cos'è? Mamma mia Perfetto Mamma mia Il biacera Avanti Perfetto Tanto picconato ha funzionato Perfetto Granato Perfetto Perché me ne ha fatto una? Ah ok ora due Cavolo Cavolo Nooo Nooo Una Io me ne prendo tante Con nove Vediamo Alleluia Ho ancora l'impulsi Un attimo Un attimo Oppa sto schifo Questo si vede Modulo Modulo Ho l'edizione Oh cavolo Oh cavolo Sì Perfetto Ce l'ho fatta No Non ho più Un gecko Non ho più Un gecko Che palle Spawna Spawna Il gecko non spawna più Ok Passiamo al quiz Passiamo al quiz Vabbò Io so tutto Di matti Un attimo Abbiamo completato la mappa Perfetto ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Mettete like Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Di tutte le notifiche Per rimanere sempre aggiornati E ci vediamo in un prossimo video See you next time Brothers E ci vediamo in un prossimo video Grazie a tutti